Ciao a tutti ragazzi, io sono Sabra del vostro Andrew Game e oggi siamo qui in un nuovo video, oggi siamo qui sulla mappa Best Parkour creata da questo tizio ProGamer16. Questa è una mappa con vari livelli parkour, qui ci fa prendere le pozioni di velocità, speed 2, però noi per non appesantirci l'inventario vediamo i livelli che ci sono messi, noi useremo qui Potion, metteremo Speed livello 2 che è infinita comunque, no questo si è messo il 3, allora non lo so perché, metti la 2, non so perché si metti 3, mettiamo, questa, ok, ora si è messa la 2, perfetto, questi sono dei livelli di parkour, ecco, ci ho felato, l'ho completata svariate volte questa mappa, comunque questo effetto di mcp master l'unica cosa che fa è metterti infiniti la durata delle pozioni, l'ho fatta per una questione di comodità, per non fare sempre la prendere le pozioni e a berle, eh si ho felato, sto felando male sto felando, sto felando, sto felando malissimo, ah comunque raga consigliatemi nei commenti di questo video altre custom map da fare, questa se la volete scaricare, ve la lascerò in descrizione, ovviamente, perché solo che se io non riesco a superare questa cosa, sto inguagliato, si, proprio di si, vabbè taglierò questa parte qui, magari, se non ci riesco a dare la taglio, perché per non farvi troppo annoiare, la taglio, raga ce l'ho fatta, non vi immaginate, ma ce l'ho fatta, facciamo questo salto, ok, queste comunque ho controllato, perché già ce l'ho giocato, su tutte le pozioni Swift, Ned, Speed 2, tutte quante, quindi, ehm, comunque, eh questa mappa, vi ricordo che ve la lascerò in descrizione, e vi ricordo anche di scrivervi, di scrivermi nei commenti, custom map da fare, avventura, quiz, survival, parkour, eh parkour non tanto, perché io non sono bravo nei parkour, e labirinti, magari, però, eh, ah, questa è bastarda, questa parte, però, una specie di checkpoint, perché una volta arrivato qui, non puoi più cadere, ecco qui, questa parte è bastarda, perché, ecco qui, vedi, guardate, 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 allora io devo fare così per forza, perché sennò non ci riesco, non ci riesco, eh sì, come no, non ce la farò mai, non ce la farò mai, io sto sclerando, no, però ce la sto facendo, devo solo ingerrare la posizione giusta, comunque, eh, si cade, non si sta attenti, è molto difficile, cioè non è tanto difficile, una volta che hai capito la tecnica, però a volte cadi così, senza senso, ecco qui ce l'abbiamo fatta, checkpoint, allora adesso noi dovremo centrare la lava, tac, questa è una specie di dropper, qui, questo è un labirinto, io nei labirinti mantengo sempre la sinistra, perché, questo è un trucchetto, mantenere sempre la sinistra, o sempre la destra, per non confondersi, un piccolo trucchetto, che non vale solo per questo labirinto, ma per tutti, perché, è un trucchetto utile, per non confondersi, dove andare qua, io sta cosa l'avevo già fatta, però che è strano che non mi ricordo più la strana, è strano, eh, oddio, ora non ricordo più la strana, non ricordo più la strana, iniziamo mantenendo la sinistra, però, se non funziona, mantengo la destra, allora, stiamo molto attenti, qui dobbiamo andare, qui, 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 dobbiamo andare di qua, dobbiamo andare di qua, ecco qui, ce l'abbiamo fatta, poi, questa parte, questa parte è il percorro più difficile di tutti, ecco, Soprattutto se mi lagga, soprattutto se mi lagga, e sono un pisco, dai dai, parkour master, parkour master, parkour master, ok, io vi giuro, ragazzi, io sto sudando freddo qua, basta che di shifti, appena, un trucchetto utile, non mi ha saltato, ma perché non mi salta, ma non ho già sto percorro, ma quello Minecraft 2 è pezzotto, come dice la parola, per, pezzotto, e quindi solo quello sul pc è buono, Minecraft 2 fa schifo proprio, però l'unica cosa buona è che farò off camera questa parte, che ce l'ho fatta qui, allora dobbiamo andare là, e andare qui, ecco qua, qui non so perché il creatore aveva messo un miliardo di tolce di res, ma qui ne ho messo solo una perché erano troppe, pronti, ecco qua, allora queste sono comunque le porzioni di speed, questo, una volta che ho imparato come si fa è semplice perché qui non capivo come si faceva perché non riuscivo a saltare, tipo scleravo ogni volta, ci scleravo in una maniera più normale che prendi danno, almeno credo, e vabbè sì sì sì, eh, very nice, abbiamo finito la mappa, davvero sono felice di aver finito la mappa, e visto che finita la mappa anche il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciatevi un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, non siete già iscritti ovviamente, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!